Tutte insieme, tutte in contemporanea, a partire dagli ore 15, tutte a caccia di punti pesantissimi le protagoniste del giorni H di Serie D per i rispettivi obiettivi. Altra domenica cruciale in arrivo dunque su tutti i campi, quello principale per quanto riguarda la lotta al primato è il Giovanni Paolo II di Nardò, di fronte la seconda e la terza forza dell'aggruppamento, di fronte la vice capolista Neretina e il Brindisi, partita che vale tanto non solo per l'eventuale rincorsa alla capolista cavese, distante 4 e 6 lunghezze quando mancano tre giornate al termine della stagione regolare. Vale tanto anche e soprattutto per il miglior piazzamento nella griglia playoff, un'eventuale vittoria della squadra di casa permetterebbe a Nardò di blindare in maniera quasi definitiva la piazza d'onore finale. Un successo dalla compagine ospite consentirebbe al Brindisi invece di perfezionare il sorpasso e rimettere tutto in discussione. Tesseratti, della Cavese, attenti spettatori del derby pugliese, a prescindere dall'esito finale la prima della classe. Non potrà comunque festeggiare la promozione matematica in Serie C anche in caso di vittoria nella gara casalinga contro il Martina. Il collettivo di Massimo Pizzulli a sua volta cerca gli ultimi punticini per brindare all'aritmetica conferma dalla categoria. E' ancora in corsa almeno per il terzo posto invece il Barretta che affronta in trasferta un Matera già salvo. 21 settembre, Franco Salerno chiuso al pubblico per l'occasione. La lotta per i playoff riguarda anche Tim Altamura e Casarano. Si riparte dal più due dei Salentini nei confronti dei Murgiani. I biancorossi di Antonio Rogazzo affrontano in trasferta una putiolana che non si rassegna alla retrocessione. I rossazzurri di Antonio Foglia Manzello, quinti in graduatoria, giocano a Santa Maria Capuavetere contro un Gladiator non ancora salvo. Domenica fondamentale sull'altra sponda della Murgia anche per il Gravina che affronta in trasferta il bitonto dell'ex Valeriano Loseto. Nero Verdi, già certi della permanenza, va ben intenzionati a chiudere con tanti punti questa stagione. Si gioca tantissimo pure il Molfetta che ospita il Paolo Poli e la Nocerina in uno scontro direttissimo. Una eventuale affermazione consentirebbe ai biancorossi di Renato Bartoli di riaprire i giochi anche in chiave salvezza diretta. E infine il Fasano affronta il Vito Curro la Fragolesse mentre al Fittipaldi va in scena un derby di Basilicata fondamentale per il cammino di Francavillenzini e Lavello.